Buongiorno miei cari followers, come state? Spero che stiate tutti quanti bene. Ora state vedendo Camuzzago, una bellissima e da me tanto amata frazione di Bellusco. Camuzzago però non è sempre stata tale. Divenne una frazione di Bellusco nel 1759, anno in cui questo borgo fu annesso al comune di Bellusco, quindi entrò a far parte nel 1759 del comune di Bellusco. Prima di tale anno costituiva un comune a sé. Secondo alcuni il primevo centro abitativo che costituiva Camuzzago era più a sud rispetto a questo centro abitato. Poi il primo centro abitativo che riguarda Camuzzago fu poi spostato dove si trova ora. State vedendo più di preciso l'antichissima e medievale chiesa di Santa Maria Maddalena e la cascina Camuzzago che si trova sulla destra della chiesa. Questa cascina era un monastero, si tratta quindi di un ex monastero. Ci vivevano i canonici del Santo sepolcro, ordine monastico che fu fondato da Goffredo di Buglione. È stato capo dei canonici del Santo sepolcro Balduino I, re di Gerusalemme. Questo monastero dipendeva dal priorato di San Luca in Perugia. Poi nel 1478 passò per volere del Papa Sisto IV alla tutela dei frati Benedettini. Infatti per volere di Papa Sisto IV nell'anno 1478 fu annesso questo monastero al convento Benedettino di San Pietro in Gessate, situato a Milano. Camuzzago è stato un borgo agricolo, è vero, ma è anche vero che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento sorsero in questo borgo delle industrie in cui veniva lavorata la seta. Purtroppo durante il secondo dopoguerra Camuzzago andò in declino. Tra il 1951 e il 1981 molte persone che abitavano in questo borgo si trasferirono. Pochi anni fa questo borgo stupendo fu ristrutturato, fu sistemato. Le due finestre piccole che state vedendo ora e che fanno parte della facciata della chiesa di Santa Maria Maddalena, furono costruite tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. La finestra più grande, suddivisa in ghiere, è circondata da un materiale che si chiama l'aterizio. Ciao carissimi, un abbraccione e buon proseguimento!